Luca Cigarini, calcio di punizione, pennellato, preciso, perfetto, chirurgico proprio ed esplode la gioia per aver riagguantato un pareggio subito dopo il gol del vantaggio del Siena. Cosa passa nella testa dal momento in cui si posiziona il pallone, si calcia e poi si corre ad esultare con i compagni? Sono belle sensazioni soprattutto quando vedi la palla entrare in rete. Prima di tirare pensi a tante cose, l'importanza che può avere quel pallone e come va a finire, se va a finire bene o se va a finire male. A parte questo è stato un gol importante soprattutto perché la partita non si era messa nei migliori dei modi e ci ha portato a fare quell'inversione di tendenza che ci voleva in una partita del genere e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Passami la battuta, avevate programmato tutto proprio perché il pathos, ovviamente sono battute queste, però lì l'Atalanta, pareggio e poi il gol della vittoria. Sì, è bellissimo e poi a vedere una stadio pieno che esulta così è ancora più bello. Era una partita molto difficile, non bella, non giocata bene da entrambe le squadre, però questi tre punti sono veramente troppo importanti per noi. Anche perché arrivavate da tre sconfitte consecutive, c'era una sosta di mezzo, quindi non sarà stato semplice smaltire questi tre knockout? Sì, sicuramente. L'ambiente non era dei più allegri, dei più tranquilli e dei più rilassati. Sempre consapevoli comunque che le nostre partite, le nostre prestazioni le avevamo fatte. Caso vuole che magari quando giochi male vinci e quando fai le prestazioni migliori non porti a casa nessun punto, però andiamo avanti così e preferiamo fare brutte prestazioni e portare a casa i tre punti. Pescara, è iniziata la settimana. Sì, adesso abbiamo la partita forse ancora più fondamentale di quella col Siena e è veramente importante. Dobbiamo assolutamente ripeterci, continuare questa striscia appena iniziata, portare a casa tre punti assolutamente.